Questa è la zanzara, questo è il label Uè, perché mi guardi così? Eh, io ho una canna del fucile nell'occhio C'è un'accetta poggiata sulle chiappe No, è un bug, in realtà è un fucile, ma ogni tanto ti fa vedere l'accetta Ma che sono questi uccelli morti che ce ne appesi? Queste sono sneakers, come si chiamano? Bayou Edition Sì, eh, provi il bug questo C'è la stessa maglia, pure se premiesche e guardi l'equipaggiamento, la prima arma è di Brown Eh sì, bravo, lo conosci, vedi? Sì Possiamo puntare le armi altre, è pericoloso No Oddio Oh, un solo caggiatore qua, una sola d'Alias Dove sei zetta? Slave Oh, medicos questo è Devo fare il solito cazzo di check, come vedete se c'è gente lì C'è gente lì Era, era l'illastra esplosione? Sì Madonna Che cattivi Due arnie È il legno di merda Occhio Altra arnia Vaffanculo Niente headshot, niente headshot Esatto Te lo volevano fa però, Brown mi hanno detto Ha mandato un messaggio Era chiamato, era telefonato Oh, è capo a questo Capo pure a questo No Torbi, è occhio Dove? Ok Non ci credo Ok Vabbè Andiamo avanti Adesso il cane è squietato, forse per il tuo coltello Non lo so Andiamoci Sì Sì Penso questo è la tua balla di fieno Esatto Sala La prezio fieno Consumabile molto bene se salta qua bisogna cadere giù per forza pescheria dobbiamo tornare indietro ci sono tra l'altro stiamo facendo la stessa strada della partita precedente attento che c'è l'Arnia la sento eccola la butto un dicoi qui dietro un dicoi mio qui dove sono correte andate dove ci siete è mai capitato di essere vittime dei vostri stessi ricordi degli amici si meno mostro di cazzo qua sotto belè st m forse non sono scusate e che c'è non lo so tanto zanzare scuotersi ma dove avevo pingato io sì e allora c'è qualcuno dove ho sentito un merito ho sentito queste cose saranno lontani lancio una dinamica ragazzi ha colpito qualcosa qui sotto oh forse erano zombie perchè ti esce la hit se colpisce il zombie sì vabbè andiamo andiamo non c'è un cazzo no no ho colpito qualcosa che non so che era vabbè bianco addirittura non ci credo si sono allontanati ma alla florebos mi fido mi 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 c'è un me di cazzo da qualche parte non li vedo le concertina ragazzi aspetta che entro pure col martello che l'ho trovato ho lasciato aver fatto l'ingresso qua la letta la scaletta correvoli sono tutte trappate arrivo prego di la finestra per i martello qua tanto è morto no così trappare ho trappato sopra sotto no mai concertina no c'è la trappola rossa mettere la finestra dove siamo entrati sotto c'è una blindata testo 8.4 e' una sbarrata quindi dovrebbe essere tranquillo sono due porte sbarrate qui sotto c'è il modo di far fuori quest'anno non prendo il cazzo si può aiutare secondo me non ci fa sentire ma ci può aiutare qua l'armato pure ci aiuta eh ah ma pure qua si entra volete mettere una trappola fuori ce l'abbiamo la prendo la metto qua va bene è ufficialmente tutto trappato testo no si ma questo portellone che cos'è brah niente si vede solo al centro della stanza sotto puoi aiutare se entra qualcuno da sotto stanno i pesci qua i pesci fritti ragazzi portellone di chi? io l'ho chiuso io qua c'è un mithead che pure ci può aiutare a difendere sta zona allora già mamma ti insegna un trucchetto vedi sta finestra dove stai guardando? si questa è buona da di lato così eviti wallbang ok che ci imparano pure occhi chiusi però si scivola brown eh anche a piedi cioè anche senza che sali ok pulito possiamo andare? andiamo usciamo da una di queste porte sbarrate di qua chissà dove ci aspettano anche se non ho sentito spari ragazzi sono di fronte a noi stanno arrivando possiamo rientrare se volete si si rientriamo rientriamo vai 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 portello portello vabbè via 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 portellone scorrevole ve lo sto aprendo prego troppo tardi non sono entrato vai brown ci sono vado a chiudere la porta ci sei già no? si ok e aspettiamo falso allarme non è successo nessuno ha visto niente come dice PsychoCost no body is dead no fucking body is dead era uno scherzo con questo portellone lo lascio aperto con questo portellone lo lascio aperto quindi ci aspettavano a Reinhard ciao bella perché bravo non avevi detto che ci aiutava ha rotto il cazzo troppo guarda ha rotto veramente troppo il cazzo e poi sti tipi se camperano dalla in fondo figurati se mai saliranno da ste scale c'è proprio mai questi mi fanno un cazzo ma te lo dico io ma mancano 45 minuti di gioco questi tra 10 minuti arrivano penso che devo andare al cert dopo che mi sono sentito l'armi apreva 15 minuti bravo hai ritrappato la porta giù fermo e quella non è mai stata trappata devo solo richiusa con la sbarra ah ok va bene a posto comunque io sono su questo spot e nessuno saprà mai nulla io sono qua sulla porta di ferro la cazzo è salito però ok eh no di qua non si sale salta vabbè basta però quando sei qui solo devi tenere sempre premuto dietro sennò guarda sennò scivoli fammi vedere vabbè concentriamoci bravo sennò ci arriva la headshot ma io mi sono messo qua proprio per questo questo cazzo pure che si sono andati ci hanno ripensato eh ma che siamo solo noi e loro in questa mappa se sono tutti come loro saranno nascosti altrove non mi piace sopra il chef beh ho messo la cucina ahia scusa credo ci arriva mi sa madonna questi ecco qua ragazzi sono a nord est 45 ma non far nulla ma non far nulla sono fermi mob dove li abbiamo trovati per niente ma sono lontani che hai partito eh sono a non 100 metri chi ha messo quella trappola è stato in gamba l'ha messa proprio nascosta non lo so io però ve l'ho anche detto beh la cosa più divertente possiamo fare è ammazzarci tra di noi no aspettiamo aspettiamo non ci squietiamo ecco qua bravo mi stia togliendo tutta la vita lentamente io poi in fight come vado lo dici vabbè lo consumo sto medivac ti cura ti cura ti cura ti cura io bravo si ferma qua guardami e sei fermo ahah cos'è che succede dov'è il buco ma brano se in modo arriva un headshot mi faccio una risata guarda guarda dove scappa guarda dove scappa guarda dove scappa vai sali la sopra tutto dove stai no no voi si stanno a fare i panini qua uii uii pam 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 ragazzi silenzio un attimo fermi arrivano 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 non ti mette la finestra assa fa marommam asfa marommam sc sc ah si son beccati Eccoli Eccolo Cazzo Forse la finestra ora ci aiuta Eccolo Ragazzi Metti il tuo palico Metti il tuo palico No, trolla la Trolla la I soldi Ma vi ad esorbi Di merda Give me my money Ok, finestre, finestre Che significa finestre? E sparano le finestre Intentano i wallbang delle finestre Pezzo di merda Mi scrivo una peccata Due teams Oh, come si muove? Che, si è agitato? Si è agitato? Raun, non mi stai facendo sentire Però Ti ho detto la finestra Eh, ho capito Ma lo stavo cercando a chiappare Non ho capito dove veniva Vabbè, me ne vado E' proprio sotto Ragazzi, io me lo farei con l'accetta Va bene per tutti No Eh, però Don, fai quello che puoi tu Tranquillo Per me è una stronzata Allora Uno lì Uno lì E uno qui sotto E uno qui sotto E uno qui sotto Sì, salito. Sono le freghe. Sì. Sì. Menta, avessi visto mezza volta da stafinestro. che sta sotto sotto aspettate che ne vedo uno ho provato col bengare sta in casa quasi preso prende l'ascensore ma buttano l'alveare occhio allora la casa di fronte alla porta di ferro c'ha gente dentro c'ha uno incappucciato di nero allora qua sotto a a a a a a come cazzo ha fatto a prendermi c'è il buco lì uno è qui colpito brown e sotto di me a 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 c'è la dinamite gliela puoi gettare nella direzione loro eh ma finisce in acqua un peccato la direzione loro è su una passerella di legno che punta ai miei piedi non è questa che punta ai miei piedi ok merda calmo 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 eh 18 allora hai visto dove è andato? se stai basso un po' oh bravo non entrava eh non si entra da là vai adesso a Gebhard e ce n'è anche uno a destra non mi posso curare ho finito tutto sanno sono giù non sono entrati mi sa aspetta l'ho aperto qua stai attento ci sono le concerti a l'ho aperto e' per sicuro aspetta 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 quel problema vai ora vai ora thank you attento là che wallbenga 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 pure da dove sei adesso Gemma c'è la grata l'hai sparato tu Jack? no hanno rotto la concertina no e' l'altra l'altra ok ovviamente entreranno da qua la porta e' rotta? si sparano le spalle da qui già ma ma o quando non Grazie. Grazie. Portiglone? Che cosa è? Ancora in casa Quello Sono legante Quello legno lo trapassi Ma adesso sei lì Credo sia qua Questi entrano Il posto che t'ho fatto io Gemma non è male Questo Te lo ricordi? Ho capito Ho scontrato qua Jack Mannaggia la madonna Sono entrati Esci Gemma Esci da sotto la trappola Non da sotto Bravo Vai Ma stretto Grande Arma Arma Madonna ragazzi Carica subito la cosa Coz E CA Non c'è niente Perdena Potere così capisco dove 1 Piedi la taglia Ok Vedi dov'è? No, no, spara Disruide, disruide Vai, vai Sì 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 Suka Suka Sì Suka 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 Dude, you're an idiot Suka Sì, mamma mia Grande Ma grande, dude Dude You're an idiot Madonna, dude Grande, giamma Mamma mia Signori, il battesimo di Prizio Dude, mamma mia Qua ragazzi, coi fucili non avrei fatto un cazzo qua Però li ha indeboliti, eh Mamma mia, dude 3 di loro coltello Devi fatti scappare col fucili, bravo Che cazzo di armi avevano Mi potete rianimare, grazie Sì Mamma mia Mamma mia Che ragazzi, ci sei rimasti un po' male? Un pochino male? Sicuramente non c'è altra gente? Sì, ho fatto un check Ok Ah, la Snake Ice me la prendo, visto che non riesco mai a portarla fuori E ti beggo anche Brutto pezzo di cagato Mi piglio anche il tuo Sparks, grazie Molto gentile Che arma c'avevi, giamma? C'avevo la zanzara e il label No, ti metti il label Costa 4,50, giamma Vabbè Ma che cazzo ho fatto a prendermi d'acqua con questo? Incredibile Insomma, tutti morti ragazzi? Coltellino così mi siete fatti buttare giù C'è il medikit sopra Questi sono impazziti completamente Ci sono rimasti malissimi C'avete solo fatto perdere Brown ai 20 minuti della nostra vita Massa di coglioni Vuoi essere curato, Dodd? No, metto qua, ma Ecco fatto, tutto apposto Via Possiamo andarcene trionfanti, peccato per Brown No, proprio Ti lutto, Brown, allora è a posto Vai Questi hanno visto Prizio, Prizio, Prizio da ucciso, Prizio da ucciso, Prizio da ucciso Guys, we'll kill you Prizio, Prizio, this piece of cake Però sono stati scemi, cioè, stati scemi Sfortunati, hanno sbagliato a non prendermi all'inizio in due con le pistole che c'avevano Uno è scappato, l'altro si impanicato E il terzo proprio non ci ha capito niente Mamma mia ragazzi, mi tremano le mani No, ma quando fai la chilla così Impazzisci, ve ne ha fatto tre, quindi mi figuro come sta Attenzione, il battesimo di Prizio, signori e signori Mi è venuto in a showdown Mamma mia Allora, le uscite Ovviamente San Pietro e Paolo C'era veramente una possibilità di uscire così da quel compo, noi l'abbiamo usata Sono entrati come i cazzi, convinti di aver vinto, la fortuna ci ha assistito Eh, sono stati convintissimi di aver vinto, ma lo sarei stato pure io al posto loro Certo, ma chiunque, forti no, tre contro uno Bra, ne hai visto in qualche modo cadere giù, mi hai aiutato Sì Hai trovato la lucidità di uscirne Quando sei caduto hai detto ok, è finita per sempre L'ho pensato, te lo giuro Ok No, vi prego Via, cani Eh, mo che c'hai paura di qualche cane Hai ucciso tre cristiani, armati fino ai denti Shut up, please Grazie Ma ti puoi allenare col fast switch Ma l'ultimo, il terzo, che faceva? Si curava col sanguinamento mentre io lo accoltellavo E questo il sanguinamento dove cazzo l'ha preso? Dal coltello, gli ha tirato una prima coltellata La mia prima coltellata, poi lui invece di ammazzarmi si è curato il sanguinamento Ah, è andato in panico completamente allora Ho pensato a premere le roba a caso secondo me Mi sa che gliel'hai data pure senza stamina l'ultima Le altre si, tiravo tipo camorrista, capito? Uoè Camorrista dell'800 Facciamo un check? Vai Pulito Mamma mia Io vi dico la verità, il primo ero sicuro che l'avrei buttato giù Il medico delle ossa non ci credevo tanto E il terzo è ancora meno Il terzo è ancora meno, però quando ho visto, cioè il potere mi ha dato sicurezza Quando ho visto che mi stava venendo in faccia, cioè stava venendo contro di me, vabbè Ci sembra una buona possibilità No, hai fatto una bella cosa, dubbio Chi di voi due mi ha detto, ricordati che c'è il potere al terzo Il terzo, bravo Ho detto che è il potere Poi abbiamo iniziato a chiamare una serie di cose in catena Ok Tra le frasi più celebri c'è Ricarica, curati, ammazza, uccidi tutti Siete vicino all'uscita Fate un cecchino Faccio io Clear Pulito Ma io fossi andato di pistola là dentro avrei perso A parte l'inizio per allontanargli un po' Ho detto qua devo provare tutto per tutto col coltello Vabbè è andata bene, alla grande Mamma mia che attenzione ragazzi, basta per me la vantaggia Questa come la chiamiamo, bravo Questa la chiamiamo il rovescio della medaglia Bello, mi piace Eh GG, mi porto anche una cosa dello zombo qua Una pistola Che di solito mi rubano sempre, questa qua Purtroppo Brown non è con noi, lo compiangeremo con una flash bomb Vai ragazzi, sono pronto per un'altra Cioè a sparare è buono Questi pvp ravvicinato Chiavi che si sono buscati coltello in faccia Mi dispiace ragazzi Si imparano a camperare Due cacciatori uccisi Allora il terzo è morto per il sanguinamento Perché Ehm, è strano Molto strano No no, ci sono tre kill Chiaramente ci sono tre kill E per un infarto, non lo so Da me si è disconnesso No, non voglio vedere questo Come quando stai a sognare di genoma Allora il terzo è morto Grazie a tutti.